Penso che il dialogo è tanto più importante quando ci sono divergenze, quando bisogna proprio guardarsi negli occhi per confrontarsi. Credo che sia un'occasione mancata anche per Renzi. Qualche fischio, qualche ironia mi pare che appartengono alla fisiologia della democrazia, tanto più se sono la reazione al fatto che qualcuno vuole cancellare chi la pensa differentemente, vuole eliminare un'idea conflittuale della politica.